La Green Volley Galatone nel girone H della B di Volley maschile non riesce a trovare continuità, non riesce a mettere definitivamente il muso in avanti per guardare la zona playoff con più serenità. La squadra è stata costruita per ambire al salto di categoria, ma il torneo si dimostra duro e altamente competitivo. Dopo la vittoria dello scorso turno con il Castellana Grotte, che aveva allontanato le ombre delle precedenti due sconfitte consecutive, con il Ruffano in casa e con il Taviano in trasferta, la squadra di coach Lionetti si è arresa sotto i colpi di Gioi Volley a Gioia del Colle, perdendo 3-1, eppure durante la gara non è emerso il divario che si legge nel risultato finale. Dopo il primo set perso per 25-20, Galatone ha vinto il secondo per 20-25 e in quel momento sembrava che la gara potesse prendere una piega diversa, ma così non è stato 25-20 e 27-25, i parziali degli altri due set che hanno così determinato il risultato finale. E così Gioia del Colle ha agganciato a 31 punti proprio Galatone, rendendo la sfida per la zona playoff ancora più calda. Alla green è mancato il guizzo finale per chiudere i set, in particolare al modo l'ultimo è mancata la zampata finale per mettere il punto esclamativo in un incontro in cui i padroni di casa ci hanno creduto di più. La squadra di Lionetti adesso deve cercare di sfruttare i due turni interni, giocherà infatti a Tuglie sia il derby con il Leverano che al settimo posto con 21 punti e successivamente con Avragola, dodicesima forza del Girone con soli 9 punti. Al termine delle prossime due sfide sicuramente si potrà tracciare un bilancio più preciso per capire dove si può arrivare, però sognare è lecito.